Direi che possiamo iniziare la relazione del professor Pennacchio, l'Alessio Magistralis, credo che dovrebbe trovare già sul computer la presentazione e come avete visto dal programma abbiamo una serie di interventi quindi dovremmo accelerare, pregherei poi i denatori di essere molto presti. Prego professor. Grazie per l'indico che mi dà la possibilità di essere qui con voi stasera a discutere un pochino con gli altri aspetti della DGAMBAN, più erenti alla ricerca e all'innovazione. Ovviamente, come potete dire dal titolo, molto è incentrato sulla individuazione di nuove alternative ai mezzi chimici puntando molto sulla natura e sull'indico biologico. Ovviamente la ricerca genera innanzitutto conoscenza e dalla conoscenza è possibile sviluppare delle innovazioni in modo molto più eloquente e sicuramente autoregiche. La luce che faccia il scacerco è il beneficio, le due cose non sono assolutamente separabili, assolutamente non separabili. Quindi in un modo dove la ricerca si muove puntando a sviluppare nuove strategie, in questo caso per il controllo degli organismi di dannosi eleganti si va dalla produzione di nuove conoscenze allo sviluppo di innovazioni basate su queste cose. E di fatto entrambe sono aspetti fondamentali di un sistema sano che provvede a generare conoscenza e a trasferirlo all'obbligativo. sostanzialmente la consapevolezza di dover generare nuove conoscenze con la ricerca è ben definita nel piano strategico per innovazione della ricerca dell'agricoltura, dove possiamo ben vedere come i primi tre punti della lista delle cose da sviluppare come esigenze di nuove conoscenze è l'indicazione di organismi utili, vedete quali, artropoli, nematogini, predatori ed entomopatogeni, ma non solo efficaci contro le diversità delle piante, ma anche studiare i meccanismi alla base della loro azione predatrice a rassetare come forma di nuova conoscenza sulla quale vedremo che è possibile sviluppare innovazioni finalizzate al controllo degli organismi dannosi. Lo stesso vale per i microrganismi, dove oltre all'individuazione del microrganismo si vuole comprendere come questo microrganismo di fatto aggredisce il suo ospite e lo utilizza ai propri fini, inoltre lo studio di nuove classi chimiche derivanti anche da fonti naturali che ovviamente abbiano un impatto psicologico ambientale estremamente limitato ed è proprio su questi punti che articolerò gran parte della mia presentazione, andando poi ad evidenziare come una valutazione attenta dell'impatto sui organismi non versatilio è estremamente importante ai fini dello sviluppo di innovazioni sostenibili per la difesa dell'idea. Di fatto l'identificazione e l'utilizzazione del senso biologico e del controllo biologico sono una disciplina, se devi dire, antica, non è una novità, almeno nel campo etomologico, che è il settore di studi di cui mi interessa, questo è un campo estremamente articolato che conosce studi pionieristici che vanno indietro più di cento anni, dove stiamo inventando o reinventando la rota, ma anche in quell'ambito il mondo studio degli antagonisti naturali sono sempre affiancato alla sua integrazione con altri mezzi di controllo, con sapere del fatto che il mezzo biologico da solo in molte condizioni di sistemi culturali semplificanti e di cultura intensiva non sempre, anzi, chiaramente riesce a dare soluzione totale. Necessariamente l'integrazione con altri strumenti è essenziale e queste sono le componenti che più frequentemente ritorniamo all'interno di strategie in piani di controllo, di controllo integrato, antagonisti naturali, piante resistenti e insetticidi, direi che, o pesticidi, volendo raccontare il concetto anche ad altri organismi erosi, ovviamente l'uso degli insetticidi e delle sostanze tipiche di sintesi, peraltro, è abbastanza preponderante adesso rispetto alle altre due componenti di questo triangolo e in una situazione in cui diminuiscono le molecole disponibili e aumenta la consapevolezza di optare per soluzioni di ridotto impatto ambientale o più compatibili con altre attività umane, è ovvio che c'è una forte tensione verso l'integrazione di molecole alternative che abbiano sempre un minore contacompatto sull'integrazione. quindi è dallo studio delle associazioni antagonistiche che possono venire fuori una serie di interessanti applicazioni, che ne vedete solo alcune di queste possibili associazioni antagonistiche, tra insetti e piante, insetti e medici naturali, etomopatologici, semplicemente per cercare alcune, e di fatto lo studio di queste semplici interazioni può indicare, può dare delle importanti indicazioni su come fare alternative forme di controllo. Partiamo dall'interazione insettoriale molto rapidamente per cominciare a guardare cosa si conosce da un punto di vista meramente accademico e questo continuo confronto ad amministrativo tra l'insella e la pianta, pianta che, contrariamente agli animali non si uscita, ma ha delle difese chimiche estremamente potenti, e difese chimiche che sono diverse a seconda del tipo di attacco che la pianta subisce, ci sono diverse forme di fitofagia, ci sono insetti che di fatto non attaccano la pianta, ma si rompendono, causando danno meccanico, ma riducendo al minimo il danno meccanico. Bene, senza entrare nei dettagli funzionali, la pianta è in grado di rispondere a queste aggressioni con la produzione di sostanze che hanno un effetto diretto sull'insello fitofago, ma la modifica del metabolismo indotto associato a queste alterazioni, a queste risposte di difesa, comporta anche una diversa composizione del profilo idrolatico rilasciato da questa pianta, che viene sfruttato da nemici naturali dei fitofagi per localizzare la propria vittima, per localizzare il complesso pianta fitofago. Esistono delle complesse retigeniche che regolano queste risposte di difesa e ci sono conoscenze crescenti in questa direzione. Abbiamo informazioni molto dettagliate sui patto e genici di risposta alle aggressioni che le piante subiscono da diverse forme di fitofagia degli insetti. E come esse, in effetti, rappresentano il punto di snodo intorno a cui si costruiscono però delle interazioni molto più complesse. Le piante non sono aggredite solamente dagli insetti, ma da parte di altri organismi, ma le stesse piante, se le consideriamo il rapporto degli insetti, le risposte di difesa e la capacità di attrazione di organismi utili sono profondamente modulate dalla presenza, a livello ipogevole non solo, di microrganismi utili in grado di alterare la capacità della pianta di rispondere agli agenti di stress biotico della parte di Gea e di fatto rendere la pianta più o meno capace di crescere o di rispondere a questi agenti di stress. Capirete benissimo che i microrganismi presenti nel terreno, che vedete, citati alcuni, alcuni sintetici, microfrize, TGPR, ce ne sono veramente tanti e molti di questi organismi benefici sono in grado di rendere la pianta capace di crescere meglio e di rispondere meglio alle pressioni da parte di agenti biotici di stress, ma non da renderla anche più capace di attrarre organismi utili producendo profili volatili completamente diversi in risposta alle colonizzazioni radicali da parte di questi microrganismi. Il quadro ancora più complesso è che le interazioni non vanno solamente tra pianta, microrganismi benefici e insetti, ma ci sono patogeni, interazioni tra piante e interazioni di ogni tipo che rendono il sistema di una estrema complessità. L'estrema complessità che però diventa sempre più evidente, chiarita agli occhi dei ricercatori e l'idea è di capire in che modo questa forma di interazione possa essere utilizzata per lo sviluppo di innovazione applicativa per il controllo dell'energia. e qui avete degli esempi come il tricolerma, questo fungo benefico che tolgando le radici delle piante coltivate induce, promuove crescita, induce resistenza nei confronti di patogeni, può essere esso stesso in grado di avere delle patogeni ed è indiscutissima l'utilizzazione di questi vari centri su varie piante coltivate che hanno una distribuzione commerciale nel luogo molto capillare. Ora l'ipotesi di lavoro è capire se queste interazioni ben note per i loro effetti benerici verso la protezione dei patogeni avessero una qualche forma di rilevanza anche nell'indurre il controllo, diciamo, un'interazione significativamente diversa tra pianta ed insetti a diversi livelli trofici. Ebbene, andando a studiare questo aspetto, si è potuto vedere come tante di pomodoro colonizzate con uno specifico cerco di fricotere marziano è in grado di aumentare le difese dirette, ovvero quelle che rendono meno efficace l'azione fitofaga di un infetto sia nei confronti di lepidotteri sia nei confronti di afili, andando ad indurre alcune specifiche vie di difesa delle piante e sostanzialmente la cosa più interessante che si associa a questo incremento delle difese dirette è anche un incremento delle difese dirette in quanto la colonizzazione radicale produce un rilascio dei volatili che risultano attrattivi nei confronti di un nemico naturale di afili, la fili serbile o nemmeno oltre il draconile. Però non tutto è così lineare e semplice, a volte cambiando i ceppi delle specie di questi punti benefici gli effetti non sono sempre nel tutto univoci e si possono avere anche casi in cui quindi l'incremento di vitalità della pianta di fatto favorisca anche il gruppo di fitofagi quindi e allo stesso tempo riesca anche ad essere più attrattiva nei confronti di nemici naturali per esempio nel terzo livello trofico. Quindi questo risultato apparentemente non così lineare ci fa capire quanto sia importante studiare i dettagli e i meccanismi sottesi a queste complesse operazioni in quanto non esistono delle regole unicoche e l'impatto dei fattori adiotici sulla formulazione di queste operazioni è molto forte. Quello che io ho cercato di brevemente di presentarvi in queste poche slide è di fatto il punto centrale di un'azione di ricerca a livello europeo che è appena iniziata, adesso utilizzerò delle poche slide che sono state fornite dal coordinatore di questa cost action che punta proprio ad utilizzare le interazioni atletiche tra piante, microorganismi e artropodi per rendere più efficace la protezione delle piante e la produzione dell'agricoltura. Di fatto il concetto alla base è che gli artropodi e i patogeni non sono assolutamente le entità che si interfacciano con la pianta in modo del tutto indipendente ma sono immersi in quella complessità microplica di cui parlavo prima che rende queste interazioni assolutamente complesse la cui decilazione è estremamente importante per il potere capire come manipolarle e utilizzarle al nostro vantaggio sfruttando al massimo quelle che sono le potenzialità e i fili del controllo. Quindi vedete che le interazioni di artropodi e pianta o dei microorganismi con la pianta sono due cose che non sono distinte e separate ma possiamo considerarle assolutamente insieme e hanno un impatto non solo sugli artropodi fitofagi ma anche sugli agenti di controllo biologico. E di fatto questa situazione è assolutamente più complessa perché i artropodi adorolica interagiscono non solo con i microorganismi via pianta ma anche direttamente con i microorganismi le associazioni simbiotiche di varia natura direttamente tra artropodi e microorganismi sono la base di innumerevoli interazioni estremamente rinavanti la prima manipolazione può risultare in un'efficace azione di controllo. e infatti oltre agli incollinatori ed altri mitolisti abbiamo fattori di patologie e di patologie di radicale e questi microorganismi come vi dicevo possono essere anche gli autosimpiologici che svolgono un ruolo importante nella regolazione delle interazioni e che regolano profondamente la fitness degli artropodi a cui essi sono associati. Esiste una grande letteratura in merito a queste attività di ricerca che in Europa ha un po' messo insieme le idee per sviluppare questo network e di fatto questa costaccia ha come obiettivo fondamentale quello di sviluppare nuove strategie di controllo nuove strategie di controllo che di fatto siano basate su queste co-partiocod microbitrature, questa interazione fra le coltivazioni e i microorganismi coinvolgendo non solo le strutture di ricerca ma anche persone coinvolte nella alta formazione e le piccole e medie imprese che possono avere interesse a sviluppare in questo ambito. Tre sono le azioni principali che si svolgono, vogliono valutare l'effettivo impatto valutario economico di queste interazioni in diverse culture, in particolare per loro e per queste, vogliono comprendere i meccanismi sottesi e come questi meccanismi possono essere utilizzati nel risultato di nuove tecnologie e di fatto poi stimolare l'utilizzazione di queste tecnologie con il coinvolgimento di tali attori incluse le aziende deputate. Di fatto questo obiettivo, questa attività prevede una serie di azioni fra cui meeting di vario genere, il primo si verrà a Torino presso l'università e sarà tra il 14 e il 15 settembre come primo mito di questa costaccia. L'interesse di questa nuova area di licea è appassionata anche da due giornali organizzate dalla Società Etomologica Italiana e dalla Società Italiana di Matologia Vegetale in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Etomologia sull'interazione insetto-piante-microorganismo, proprio finalizzata allo sviluppo di queste tecnologie scienze. Diamo adesso un rapido suguardo a quello che succede ai livelli sui tipi. Un infetto, un fitologo, viene attaccato dai nemici naturali. Se non essere attaccato dai nemici naturali di fatto è esposto ad una serie di vestazioni molto gravi. Di fatto con l'uovo viene in genere iniettata una grande quantità di molecole che sono in grado di sopprindere la vittima o di modularne la fisiologia, alterarne l'immunità, alterarne il sistema neuroendocrine, ma in altre parole. Queste molecole sono in grado di sopprimere l'ospite e quindi rappresentano una diversità molecolare a cui si può ispirare per lo sviluppo di nuove sostanze, di nuove strategie di controllo. non solo molecole proteico, pentitico di altra natura, seppre dai vedi, ma ci sono anche dei simbionti, in questo caso dei virus in particolare, che sono coinvolti con questa interazione così sottile tra l'ospite e il parassitore. Questi virus, giusto come curiosità, sono veramente qualcosa di non credibilmente complesso, sono delle forme di virus integrate come pro-virus nel genoma del parassitore che sicuramente al livello di un ovario li rilascia come particelle viralite che vengono iniettate nel corpo dell'ospite dove non manuncontra nessuna forma di replicazione ma esprimono una serie di molecole estremamente aggressive che alternano la fisiologia dell'ospite. E come ben vedremo ci sono già degli esempi concreti di utilizzazione di queste molecole di origine naturale per lo sviluppo di nuove strategie di controllo. In sintesi, sia dall'interazione del primo livello trofico che del secondo livello trofico, l'idea è non solo di utilizzare questi organismi come agenti di controllo ma anche come fonte di l'ispirazione per lo sviluppo di nuove strategie basate su molecole di origine naturale da essi prodotti. E questo vale anche per gli antagonisti fungicidi. Inoltre abbiamo una gran quantità per esempio di metaboliti prodotti da questi funghi benefici che quando vengono utilizzati possono esercitare un'azione di controllo diretta nei confronti dei funghi loro ospiti e di fatto possono anche essere fortemente coinvolti in azioni di promozione e di crescita. Quanto questi metaboliti siano anche nei confronti dell'interazione insetto-pianta è ancora argomento di studio che certamente attrattavano l'interesse nei prossimi anni. Quindi, concettualmente, un antagonista fungino o un antagonista di un insetto l'idea è sempre quella di imparare gli organismi naturali per sviluppare un'altra strategia di controllo. Di fatto potremmo considerare con la definizione massica di lotta biologica che è l'uso di un organismo contro un altro meccanismo la potremmo anche allargare dicendo che potremmo utilizzare gli organismi dipendi ma anche loro molecole geni per poter sviluppare nuove strategie di controllo. E lascerei la prima definizione di lotta biologica al uso degli organismi mentre più correttamente possiamo parlare di un controllo cioè un controllo biologicamente orientato allora quando utilizziamo le molecole di origine naturale codificate da antagonisti degli organismi che noi vogliamo contrastare. Ed ecco alcuni piccoli esempi, alcune piccole applicazioni che possono dare già una concreta evidenza di quello che si può fare con questo tipo di studio. Ad esempio da uno di quei virus associati a parassitoidi sono stati insolati genomi, insolati geni qualificanti per fattori di virulenza in grado di indurre alterazioni letali degli ospiti e sostanzialmente uno di questi fattori di virulenza che ha una particolare sfidatura proteica che non importa è stato utilizzato da qualche anno nella tossicità orale notando che, di fatto, utilizzando piante trasgenica ma esclusivamente come strumento di studio non assolutamente come elemento finale di sviluppo si è potuto comprendere che queste sostanze allora quando vengono ingerite esercitano una notevole azione semplicita come potete vedere da queste urte di sopravvivenza queste due sono relative a diversi dosaggi della stessa molecola ingerita da l'arebe e da gli odiosi di Resens dell'istodoptera litorale sanica non solo gli odiosi di Resens abbiamo studiato il meccanismo di azione e non è un'azione che si esercita attraverso un meccanismo di tossicità dovuta all'interazione con i recettori che noi aspettavamo ma di fatto i domini di Anchietina consentono un'interazione con le vitale intestinale causando un'otturazione dell'intestino e un ridotto o lungo assorbamento di nutrienti in particolare amminoacidi e questo si, di fatto, si concretizza nel prodotto sviluppo nel prodotto a crescimento dell'elevata mortalità delle arme esposte a queste due due clienti quindi vedete come in effetti uno studio attento del meccanismo di azione della sostanza di origine naturale può mostrare che l'attività viene esercitata attraverso lui e del tutto in attesa in quanto noi ci aspettavamo che il passaggio attraverso le vitale intestate può avvenire anche sul modo limitato ma che in questo caso non è avvenuto e quello che è successo come vedete in questa presentazione grafica senza nessun dato sperimentale del tagliato è anche possibile più recentemente con una serie di documenti finalizzati a bloccare lo sviluppo degli insetti alterando l'espressione di gene in modo estremamente specifico questo strumento di studio molto potente ha già mostrato quali sono le potenzialità di questa tecnologia per il corrisollo degli insetti ma noi lo stiamo utilizzando più che altro come elemento, come strumento di studio che ci ha consentito di sviluppare un'altra strategia biometrica che è quella di andare a degli studi di interazione ospite parassitoide abbiamo individuato un gene degli ospite che è coinvolto nella risposta immunitaria che è un taglio primario dell'azione parassitaria noi abbiamo minimato l'effetto del parassitoide andando a bloccare l'espressione di questo gene qual è l'obiettivo sostanziale? perché una larva non la soppressa è una larva che non muore apparentemente l'arma rimane disponibile per i suoi medici naturali nel momento in cui viene aggredita o viene colonizzata il patogeno il patogeno è 7, 8, 10 volte più efficace con i confronti della larva cosa significa questo? che questo tipo di approccio non sottrae vittime ai livelli profici superiori quindi non ha un impatto negativo sulle dinamiche di popolazione dei livelli superiori bensì è in grado di offrire comunque delle vittime vittime che peraltro sono di gran lunga più sensibili come nel caso di volare premature di epilotti che notoriamente domandano, non dicevano, alcun danno dal bacillus dirigencis assolutamente con bacillus dirigencis ma nel momento in cui attraverso la tecnica dell'elemento Fieres blocchiamo l'espressione di quel gene che regola la risposta immunitaria riusciamo ad incrementare la tossicità nel confronto di quest'arma di ben 8, 10 volte quindi capirete benissimo che potenzialità applicativa riguarda questo tipo di studi e qui più anticipato il risultato da vedere come a confronto con i vari controlli nel momento in cui c'è il silenziamento di questo gene immunitario guardate come va giù la sopravvivenza in questo caso la sopravvivenza delle larve trattate rispetto ai controlli che si usano praticamente quasi per i più insensibili rispetto al trattamento racconto sull'uncio il sesso antico altre forme di tossine questa è un'applicazione di come un fattore di violenza che raggiunge l'obiettivo che possa nominare questo effetto immunosoppressivo andando a colpire lo stesso gene che colpisce il tassino ma quando vogliamo rilasciare insetticidi sono una molecole proteiche o delle doppie eliche di acidi nucleici abbiamo dei problemi di rilascio nell'ambiente di queste molecole sono molecole estremamente sensibili a fenomeni degradativi sia all'esterno sia all'interno del campo intestinale quindi risulta estremamente importante concentrare l'attenzione anche su strategie di delivere di rilascio di queste molecole e di protezione adeguata nei confronti delle cause di degradazione quali possono essere gli enzimi digestivi le barriere offerte dalla matrice peritrofica e dall'ambiente intestinale che sono particolarmente potenti nel ridurre il transito di queste macromole che comunque avviene sia attraverso fra le cellule che attraverso le cellule con il trasporto frascitolico esistono una grande serie di studi finalizzati alla comprensione dei meccanismi fisiologici sottese all'assorbimento marco molecolare che di fatto rende possibile manipolare, produrre nuove fragili di proteine con altre proteine che facilitano il trasporto attraverso le cellule perché sono in grado di interagire con dei recettori presenti sulla membrana quindi esiste un enorme nuovo campo di studi sinalizzato al rilascio efficace e sicuro di queste molecole perché attraverso queste strategie si può anche condizionare l'efficacia dei conflitti di questo o di quell'altro artropolo del versatio quindi capirete benissimo come queste sono nuove frontiere della ricerca che potranno fortemente visualizzare l'utilizzabilità di molecole di origine naturale di natura macro molecolare e veniamo alla parte finale alcuni aspetti tutto ciò che viene dalla natura non necessariamente è bello come anche tutto ciò che viene dalla chimica di sintesi non sempre è bello ci sono delle cose migliori e delle cose peggiori stanno cercare di valutare con estrema diciamo precisione quello che può essere l'impatto di queste sostanze sugli organismi utili sull'ambiente i servizi ecologici forniti dai nemici naturali sicuramente possono essere più fondamenti alterati dall'introduzione nell'ambiente di sostanze che hanno un impatto potenzialmente devastante su questi organismi utili quindi ho messo lì l'AVE perché l'AVE è certamente il centro delle attenzioni che noi abbiamo nei confronti di questi organismi utili dei servizi ecologici perché l'impollinazione è il servizio ecologico numero uno senza il quale abbiamo grossi problemi non solo di produzione ma anche di motivi ambientali e studi condotti negli ultimi anni chiaramente evidenziano come il declino e il collasso delle popolazioni di AVE non sono riconoscibili da un solo fattore ma sono di fatto una sindrome multifattoriale che però si presenta sempre con una elevata proliferazione di patogeni in particolare di patogeni associati a forme di parassiti estremamente aggressivi come ad esempio la parola e la capacità di tutti questi stress di immunità negativamente la capacità immunità e di monocompetenza dell'AVE è un elemento essenziale per comprendere come possiamo effettivamente cercare di misurare l'effetto di immunissimo fattore perché non sempre la tossicità diretta come si diceva in questa mattina è una misura corretta di quello che noi stiamo contando ma ci sono una serie di effetti subletali anche nei vertebrali si parlava di immunotossicità e molto spesso per alcune di queste sostanze possono avere effetti immunotossici a dose subletali che possono concorrere nella stimolazione della proliferazione di patogeni strettamente associati all'interno molti di questi virus sono associati come nel caso nostro l'herpes che è in forma diciamo silente che sotto stress viene indurto la stessa cosa può capitare anche se i negativi sono molto diversi in questo caso abbiamo dei patogeni silenti associati all'AVE in modo asintomatico ma in condizioni di stress che sono in grado di modulare negativamente l'immunità questi patogeni schizzano e di fatto compromettono in modo indiversibile la capacità di difesa così come la sopravvivenza di questi insetti quindi non è facile capire cosa misurare quando si parla di effetti subletali ma chiaramente viene sempre più fuori in un quadro in cui determinate sostanze alterando l'immunocompetenza anche i dosi subletali sono in grado di indurre una proliferazione di patogeni sociali all'AVE stessa e questo è il frutto di uno studio pubblicato pochi anni fa in cui si è chiaramente dimostrato come sostanze neurotossiche come i neonicotinoide e il cotiano in particolare sono in grado di alterare il feedback regolativo del sistema del riposo sul sistema immunitario non abbiamo dei dettagli di questi meccanismi che non avrebbero senso in questa sede però capiamo l'esistenza di meccanismi di controllo mutuo tra sistema immunitario possa essere alterato da sostanze neurotossiche anche a dosi subletali questo aggiunto al tratto recente ci dice una cosa che i neonicotinoide e gli insettivi in genere anche a dosi bassi possono concorrere nel determinare una sindrome compressa associata al declino del centro della popolazione indiana ma sarebbe non corretto pensare che fosse l'unica causa assolutamente non è così però una valutazione attenta di questi effetti che spesso non vengono considerati per mancanza di conoscenza è un limite importante che di fatto rende alcune discussioni in fase formale estremamente complesse contorte la carenza di conoscenze rende viziosa anche non solo la carenza di conoscenze rende viziosa la discussione che ormai sappiamo va avanti da molto molto tempo concludo molto brevemente con alcune considerazioni come l'importanza di studiare la natura le interazioni fra le piante gli insetti o diciamo patogeni e i loro antagonisti naturali in quanto questi meccanismi le molecole convolte nuovi strumenti e nuove tecnologie va in sparte una parola di ispirata in italiano non funziona tanto bene ma ispirata biologicamente dei sistemi biologici quindi non solo l'uso degli organismi ma anche delle molecole dei geni e delle interazioni che questi organismi hanno con altri antagonisti è fondamentale è fondamentale sviluppare un nascio che consenta la valorizzazione di queste molecole e la loro utilizzabile in condizioni di efficacia e sicurezza e qui sono studi di fisiologia di base sull'assorbimento e sul trasporto intestinale ma che sono essenziali per la definizione di nuove strategie di nascio ambientale di molecole di natura proteica o di altra natura e infine è essenziale una valutazione dei rischi che sia sempre più supportata da conoscenze scientifiche rigorose che non siano dei protocolli standard per valutare è morto non è morto perché gli impatti su complessi servizi ecologici forniti da una serie di organismi associati ai nostri organismi sono in estrema complessità di cui voi avete apprezzato in minima parte quello che vi ho potuto trasmettere in questi frenti ma che sicuramente rappresentano un oggetto di studio di estremo interesse scientifico ma che ha dei risvolti applicativi di enorme potenzialità che certamente vale la pena sfruttare nei prossimi anni per esempio concludere dovrei ringraziare tante persone con cui gli anni abbiamo sviluppato idee, progetti lì all'Università di Napoli con i patologi il professor Rodrigo è giusto un nome che mi viene in mente ma ci sono tanti altri l'ECNR e l'Università di Napoli che da anni ha cominciato insomma a interessarsi su alcuni di questi argomenti e però vorrei anche ricordare una persona che di fatto in modo molto visionario più di vent'anni fa ha cominciato a parlare di queste cose quasi quasi in convinzione che solo chi ha una profonda conoscenza degli argomenti trattati può avere e lo professore non lo conoscono ma insomma credo sia doveroso ricordarlo e ringraziarlo conoscenza 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 conoscenza